Ciao bimbi, eccomi qua. Allora, passiamo insieme l'orologio, come vi avevo detto, ok? Vediamo come scrivo. Ok, ecco qua. Allora, innanzitutto, vi ricordate come si chiede che ore sono? Mmm, sì, sì, molti di voi se lo ricordano, secondo me. E si dice, what time is it? Che ore sono? Che ore è? Allora, il primo, la prima delle ore che rifassiamo è l'ora in punto, ok? Ok? Allora, rifassiamo insieme come si fa un orologio. Vi aiuto io, eh? Allora, disegniamo un cerchio. Che cosa si fa? Una linea in alto, una in basso, una di lato e una di lato. E in mezzo, fra queste, se ne disegnano due. Quindi, più o meno, verrà fuori un orologio. Allora, qui, quella in alto, ci sarà il numero dodici. Qui, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e undici. Eccoci qua. Quindi, ripassiamo l'orologio analogico. Questo è l'orologio analogico. Allora, come funziona? La lancetta più piccola indica l'ora. Facciamo finta che la lancetta vada qui, quella delle ore, e quella dei minuti va qui. Quindi, che ore saranno, secondo voi? Sì, sono le due. Ok, allora, a fianco scriviamo i due modi, nell'orologio, a questo punto digitale, per scrivere l'ora. Allora, le del mattino saranno le 0,2 e 0,0. Nel pomeriggio saranno le 14 e 0,0. Ok? Allora, se uno vi chiede, what time is it? La risposta sarà sempre, it's, it's, sono, oppure è, it's. Qui dobbiamo scrivere l'ora. Quindi sono le due. Two. It's two. Lo stesso, anche se qui sono le 14, scriviamo two. Perché? Cos'è che ci dice? Ah, quello ve lo dico dopo, vai? Allora, comunque sempre two. It's two, per indicare l'ora in punto, si dice, e ora prendiamo un bel pennarello, o'clock. It's two o'clock. It's two o'clock. Ok? Allora, stiamo dicendo che sono le due in punto. Allora, però, ora dobbiamo capire del mattino e del pomeriggio. Vi ricordate come si dice? Allora, ve lo ricordo io. Del mattino si dice A-M, cioè anti-meridian. Del pomeriggio, P-M, post-meridian. Allora, facciamo così. Io vi disegno altri tre orologi e voi provate a farli per venerdì. Ok? Quindi sarà molto facile. Ripasseremo o'clock. Bene? Buon lavoro e ci sentiamo prossimamente. Un bacione. Buona serata. Ciao, bimbi.